Ci può raccontare nel giorno della scomparsa di Camilleri la sua amicizia? Andrea Camilleri ha lasciato noi oggi, potresti dire un po' di parole sulla tua amicizia con lui? Siamo stati amici per molti anni e abbiamo capito molto bene. Siamo stati amici per tantissimi anni e andavamo molto d'accordo. Avevamo tante cose in comune. L'ultima volta siamo stati insieme a febbraio e abbiamo avuto tante discussioni. Abbiamo parlato di romanzi, abbiamo parlato di politica, di qualsiasi cosa. E lui era in ottima forma, molto contento e sono molto contento di averlo visto in febbraio. Perché posso portare con me questo ricordo di allegria e di buon umore, di felicità? D'un lato credo che mi sarebbe piaciuto vederlo un'ultima volta. Ma d'altro canto penso che forse è stato meglio così perché posso avere questo ricordo. Il fatto è che io ho perso un amico, ma il romanzo poliziesco mediterraneo ha perso il maestro.